E' molto più facile Gli usci verdi E' molto più facile Criamo anche un tunnel così Andiamo Fammi zappare la terra un secondo Oh il cacchio Ok sto zappando Ok Tunnel fatto arrivo da me Andiamo 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 Deve essere anche a te di qua a sinistra che Molte volte gli piace accerchiare in questo modo Ma gli americani Grazie una trappola Ah Mi avanzo qui nelle isaglie Maionetta Non c'è nessuno strano Rischiamo di fare una buona giocata Qua non è più controllato il condorio Return to the combat area Ancora Sono morto Tutti e due a terra Abbiamo Ci è giocato C'è uno quello di troppo l'angolo Di troppo l'angolo c'è uno Nooo, ma è un'azione inginocchiato! Arrivo, arrivo. Sono che sono sparato dall'altra parte. Cristo! Eh, ma non sia insieme difficile che posso dividere tutte le parti. Non c'è! Ah, è un macello. Ah, su tutte le tue le mani, vaffan... Ah, la mia trapportizzata! LOL! Bene, la mia trapportizzata è piena. E' una strage. E' una strage sto facendo. Mi stanno bestemmiando dietro, giuro. Mi stanno bestemmiando dietro. Mi stanno bestemmiando dietro. Mi stanno bestemmiando dietro a fare la scuola. Mi stanno bestemmiando dietro a fare la scuola. Mi stanno bestemmiando dietro a fare la scuola. Ah! Non cazzo, dovevo ricaricare. Scuola, riporti in! E' stato un momento imbarazzante. E' stato un momento imbarazzante. E' una meccano, lanciò una granata... E' a fianco a me. Cioè, non mi aveva visto, però li ho veramente a fianco. E' la scienza. Guarda, li faccio tutti. Dovevi poter rifare questo tue... Vediamo un po'! No, no, no! Vabbè, non li avevi fatti alcun, eh? Si, vedo dei... C'è, oltre. Si, si, vedo proprio i su radar adesso. Mi butto sopra la stazione della polizia Dai c'è il malo Perché c'è il malo? Vabbè Già fiamme di merda L'hai fatto fuori? Sì Ti seguo Non prima, devo prendere piano di BK Ah ok, sono qui Dov'era? Attraversata la strada Sì, come ha fatto a sopravvivere? Ah è quello lì, l'ho chiuso anche Non ci credo che non si racconta con l'altra Pazzesco Vabbè, vabbè Cioè, freghiamo altamente Se ne sta ancora uno in quella parte Ancora lo stesso, è lì proprio nel vicoletto Scout, report in Cosa Dime che cosa è fatto Dime che cosa è fatto La cazzo di M3 Ora gliela... Le faccio ingoigliare la faccia La cazzo di M3 Sì 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 Ok Stanno sinistra Stanno sinistra Però ora non ne vedo Siamo tutto sinistra Vuo un po' più a sinistra Sono sulla tua sinistra Ho fatto fuori uno Vogliamo fare l'accerchimento del servo Ma con questo cazzo di guardrail Mi hanno bloccato i proiettili C'è un mitalline tutto a sinistra Dove sono morto io sostanzialmente Si sta attraversando le risaie Mh Scout Report in Allora Inchiugo Ho disolito di te Vai 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 Ah proprio con la bandana Mi hanno bloccato il rumore Adesso è un altro Ancora più a sinistra Dove ho vendarmi e ricaricare il fucile Buona situazione Mi hanno detto Si non so come facesse quella per Diciamo un linea di tiro sui nuovi Mentre noi abbiamo fatto un cazzo Voragin bout Take cover Uno l'ha colpato Quanti ce ne sono? Ok Ok adesso la cazzo qui Molto c'è la granata L'ho da un sacco Malcia piammi qui a sinistra Ma anche per la sinistra Ho fatto cambiato quella granata è morto dove sto lanciando? è morto su a destra lì è entrato uno ecco lì 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 mamma non so se non sia morto con la mia raffiga non so se non si è morto con la mia raffiga non so se non si è morto con la mia raffiga non ho a cambiare arma vediamo un po' non può voler essere il PS anche se questa distanza del PS ti raggiungo mi stiamo distruggendo in questa partita vediamo come avevamo difeso prima immaginavo ci abbiamo proprio qui sulla nostra destra attenzione ma per poco però l'ho fatto fuori anche side off guarda 31 kill tu 22 bravo 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 il tutorial ha stato distruggito posizionato un altro piazzotti mi hanno distrugguto ogni volta oh? per spuonare il gioco oppure lo devo bestegnare? ora scout riportiamo 8 7 6 5 3 2 1 tanti babà tanti babà gg gg 3 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 9 9 12 13 16